Ciao ragazzi, sono Robin Good, sono un piccolissimo editore online, ho la mia rivista che si occupa essenzialmente di nuove tecnologie e di come comunicare in maniera efficace utilizzandole, soprattutto per chi ha qualcosa di importante, di appassionato, di sentito che vuole trasmettere agli altri. Io mi occupo di questo e attraverso questa professione che mi sono letteralmente inventato riesco a vivere indipendentemente da quel mondo di fatture, banche, avvocati, pagamenti, assegni eccetera per il quale ho vissuto tantissimi anni e nel quale mi trovavo assolutamente molto male. La mia storia è velocissimamente questa qua. Prima avevo una società, un'agenzia di comunicazione e grafica e fotomontaggi insomma mi occupavo di tutto ciò che era comunicazione visiva quasi a 360 gradi partendo dai biglietti da visita e potendo arrivare alla produzione e post-produzione video o di computer grafica. Ho scelto, siccome conoscevo bene la lingua inglese, di dedicarmi ad un mercato di nicchia prima che ancora di nicchia se ne sentisse parlare, cioè nel lontano 88-89, 1988-89, secolo scorso, ho deciso di dedicarmi esclusivamente al mercato delle aziende e organizzazioni internazionali di lingua inglese che si trovavano nella mia città a Roma e quindi mi sono specializzato nel lavorare con queste organizzazioni che sono soprattutto organizzazioni non profit, organizzazioni umanitarie, organizzazioni che cercano di aiutare lo sviluppo dei paesi e delle necessità che ci sono intorno al mondo e dove ci sono quindi un sacco di operatori in altre lingue dove io potevo andare a condividere le mie esperienze di comunicatore, di esperto di nuove tecnologie e aiutare queste persone a comunicare meglio nel fare i loro progetti, i loro libri, le loro campagne. Tanto ha funzionato questa cosa che sono riuscito anche ad entrare nel reparto dell'addestramento, del training e quindi di poter fare per tanti e tanti anni corsi a delle persone alle quali insegnavo come comunicare usando PowerPoint piuttosto che il web o dei grafici di statistiche. Attraverso questi corsi ho sviluppato un sacco di contatti diretti anche perché raccoglievo alla fine di ogni esame i nomi delle persone che volevano rimanere in contatto con me o ricevere altre informazioni sull'argomento che io gli avevo insegnato. Insoddisfatto comunque poi a un certo punto di questo mondo nel quale avevo lavorato con l'agenzia di pubblicità grossi enti statali, governativi, grosse multinazionali ma proprio soffocato dalle noie dovute a farsi pagare, a essere trattati in maniera onesta a vedere il proprio nome dove doveva essere, a vedere buone idee non buttate via semplicemente per accontentare qualcuno ho deciso a un certo punto che non mi bastavano i guadagni che stavo facendo con queste cose ma che avevo bisogno assolutamente di realizzare qualcosa di diverso e quindi ho scelto di cominciare a pubblicare una newsletter, di scrivere tutto ciò che mi interessava mi piaceva, potevo condividere con gli altri, gli desse qualcosa di speciale e di mandarla a quelli che venivano ai miei corsi che si erano quindi resi disponibili a poter ricevere delle informazioni da me mando la newsletter, mando la newsletter, 50, 100, 500, 1000 aumentano sempre di più il sito web non faceva altro che ripubblicare dopo un po' quello che mettevo nella newsletter mi sono poi reso conto, 2001 circa, che dovevo fare il contrario e quindi mettere per primo il sito e poi la newsletter e ho messo le cose lì sopra finché qualcuno mi è venuto a dire senti ma Romio ma tu fai tutte queste cose, pubblichi queste, perché non ci metti della pubblicità? ho detto no assolutamente la pubblicità non va bene per me, sono contrario alla pubblicità finché non ho capito come funzionava AdSense per farla breve ho provato questo metodo di pubblicità di Google e nell'arco di pochi mesi ho visto che si potevano guadagnare delle belle somme di denaro quindi non ci ho pensato su due volte ho adottato questa pubblicità che è contestuale, rilevante dà delle informazioni utili a chi la legge e mi sono imbarcato in questa avventura come ho guadagnato, cominciato a guadagnare 3-4 mila dollari al mese ho lasciato perdere completamente i miei lavori passati, i miei clienti ho chiuso tutti i rapporti con chi mi chiedeva di fare del lavoro fatturato e poi pagato in maniera tradizionale e mi sono dedicato interamente a fare l'editore online ho scoperto una marea di cose ma mi servirebbero un sacco di altri minuti per poterti raccontare la storia in dettaglio quindi questo è stato il mio cammino attraverso il quale sono riuscito a diventare indipendente e a fare quello che faccio adesso online ciao